Gliela mando io, gliela mando 100 A 150 metri, 200 metri, ci fermiamo un attimo Grazie, grazie Fischiamo io Vai Gabriel, vai, vai, allucinato adesso loro Daniele Morbidoni non desiste, il portacolori della team appunto Prestigioso successo al team Giulio Dori-Renzo Secondo posto per Luca Quaccarini Va a chiudere in terza posizione con il dorsale 200 metri, libera la sede stradale, c'è la volata del gruppo Che occupa l'intera sede stradale, volata del gruppo Che vede prevalere, almeno da chiudere, ricordo la vostra vista Yuri Cerioni, Cerioni della team Trinox Vieni al comando Che stanno transitando in questo momento Ricordiamo il gruppo Che sta transitando in questo momento A guidare il gruppo con il dorsale 110 E il portacolori della studio moda Stefano Brigatti Al comando ed è ancora una portacolori della Giulio Dori-Renzo Fermani Che va a chiudere Ciao Giammaio, bravo Sarà sicuramente la volata del gruppo Arrivata dal gruppo Al comando Non vuole essere Non vuole essere Arriva l'altro guardo con il dorsale 116 Salino Ricci Poi il resto della Zucco Ricordiamo ancora una volta il Grazie a tutti.